Dicembre 1947. Il progetto costituzionale è ormai in vista dell'approvazione definitiva, ma le ostilità tra le forze politiche esplodono dopo l'ingresso nel governo di Repubblicani e Saragattiani. Delle sedute politiche dove si scese anche a manifestazioni muscolari. Possibile che si possa arrivare a una mischia fisica in aula. De Gasperi ci guardò e dopo un breve silenzio disse solo una volta al Parlamento austriaco uno sparò anche una rivolverata. Allora ci accorgemmo che il nostro scandalo non era sufficientemente motivato. Vi era anche la preoccupazione di arrivare almeno da parte delle sinistre, da parte nostra in particolare, di arrivare al più presto a chiudere il discorso sulla Costituzione. Quindi mantenere quel grande patrimonio di idee, di orientamenti, che erano orientamenti progressivi, di garanzie per la libertà, per lo sviluppo della vita democratica del nostro Paese, mantenerlo come base dello Stato italiano. 22 dicembre 1947